Occhio agli scalini, sono tutti storti. Non è un errore. Ho voluto che l'architetto mantenesse la struttura originale del casolare. Credo che gli conferisca più personalità. Fosse stato per mia moglie avrebbe raso tutto al suolo. Comunque la casa dispone di tutti i comfort. Acqua calda, tv satellitare, riscaldamento a pavimento. Questa è la vostra stanza. Io starò al piano di sopra. Vi aspetto dopo in salotto e fate come se foste a casa mia.